Campeggia sugli spalti del comunale di Civitanova Marche tutta la rabbia e la delusione dei tifosi. Fuori questa società dalla nostra città, pubblico esiguo ma con idee chiare, patitucci, non è gradito. Galvanizzati dal 6 a 0 dello scorso turno invece ci sono i tifosi giallorossi a sostenere Giulianova Di Giorgini. Nell'aria c'è tensione e la si percepisce anche in campo. Come all'ottavo minuto, quando si materializza un incredibile strafalcione a tu per tu col portiere ospite di Capitano Amodeo, è il Roraccio che vanifica una grande occasione per la Civitanovese. Azione sfumata all'undicesimo per il Giulianova con Esposito il cui tiro trova un attento Silvestri tra i pali. Nessun particolare slancio per una buona parte del primo tempo fino al 26esimo quando arriva il vantaggio della Civitanovese con un bel tiro di Benzaia che sorprende una difesa poco attenta. Si sprecano poi i falli della difesa di casa su Nassi e Mariani. Al 33esimo proprio Mariani si guadagna una punizione interessante sulla sinistra. La difesa respinge, ma c'è Gaetani che con una sorprendente semi rovesciata da fuori aria trafigge la rete della Civitanovese e consegna così il pareggio al Giulianova. Settimo gol stagionale per lui. Nemmeno il tempo di riprendersi che arriva l'1-2 al Polisportivo. Azione perfetta costruita da Mariani in attacco che serve una palla altrettanto perfetta per Esposito che dalla distanza spara un tiro imprendibile per Silvestri. Esulta la panchina giallorossa. Punizione di Degano al 43esimo più che insidiosa per il portiere giallorosso, ma falso c'è, pare in doppia battuta, mentre guarda linee, intanto segnala comunque il fuorigioco. Si va negli spogliatoi sull'1-2. Si rientra in campo e ancora Capitano Amodeo va vicinissimo al gol, ma prende prima il palo e poi sulla ribattuta arriva il fuorigioco. Brutto fallo sul portiere falso fuori dall'aria, ma l'arbitro fisca il successivo intervento falloso sul 5, Testoni. I due giallorossi si rialzano in contemporanea. Palla a gol per la Civitanovese al 27esimo con Degano, ma c'è Saracinesca falso tra i pali. Civitanovese che ci crede e prova a strappare il gol del pareggio, ma la difesa giallorossa è serratissima. Erroraccio di Sciba, neoentrato, che spreca praticamente da solo davanti a falso. Nella ripresa sicuramente si vede molta più Civitanovese che Giulianova. Ottima la prestazione del portiere giallorosso che presidia la propria area, difendendo il vantaggio della squadra con più interventi. Il secondo tempo scivola oltre i 5 minuti di recupero e i tentativi dei padroni di casa si spengono al triplice fischio finale del signor D'Ambrogio. Vince il Giulianova la terza vittoria consecutiva, gli applausi e slogan dei tifosi sono tutti per squadra e mister Giorgini. Per la Civitanovese, ancora a secco di vittore nel 2015, ricomincia da domani l'ennesima settimana alle prese con i problemi societari. Gli ultra processano sotto curva l'undici di mister Mecomonaco al grido, tutti a casa. Sicuramente io temevo molto questa partita perché a Giulianova, penso, fu la squadra che mi impressiona di più, anche se io mi trovo la prima domenica. Dopo lo svantaggio è normale, piano piano abbiamo ripreso il reno del gioco, penso che dopo la vittoria del primo tempo l'abbiamo meritato, dopo abbiamo sofferto un po' nel secondo tempo. Il problema nostro adesso non è partire risultati, abbiamo problemi come ce l'avete voi, bisogna vedere a livello di società, se no queste vittorie non servono a niente. Sì, è molto vicino, però come ripeto, non è che mi trovo alle prime armi a allenare, il problema più però è il livello di società, infatti io sono andato a allenare a Giulianova, sono di Giulianova, ma non per le società perché sono del posto, quindi non posso fare per senza niente, non è quello. Il problema è se c'è futuro, altrimenti la salvezza non serve a niente.